Allora, l'ispirazione della collezione nasce un po' dall'arte concettuale, con un topo di colore, basi bianche neutre, ma molto pulite, molto essenziali, senza troppi accessori e comunque troppe cose. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Il titolo del concept è un po' la disciplina dell'estetica, perché sentivo l'esigenza di fare cose colorate, con i tocchi di colore. Al prossimo episodio Al prossimo episodio